la finanza in soldoni di massimo famularo episodio 11 la cultura del torcicollo post inizialmente pubblicato su econopoli 24 del sole 24 ore un aneddoto emerso durante una conversazione con il professor pietro ichino di qualche tempo fa ci fornisce un'interessante chiave di lettura per comprendere l'evoluzione recente della società e dell'economia italiana e le sue prospettive per il futuro si tratta di un meccanismo culturale molto importante che ha avuto un ruolo cruciale nel declino degli ultimi decenni e dalla cui rimozione dipendono le possibilità di riscatto per il nostro paese nei prossimi anni trovate il video col professor ichino sul mio canale youtube ma veniamo all'aneddoto siamo in norvegia e un pianista molto famoso a causa di un incidente perde una mano agli occhi del paternalismo italico non c'è dubbio che si tratti di una tragedia irrimediabile buona per alimentare talk show ed editoriali menensi ovvio che gli si debba garantire una pensione a vita poiché lo sfortunato null'altro potrà fare se non struggersi fino alla fine dei suoi giorni su quanto corrispondegli e come finanziare questa erogazione è sconveniente interrogarsi e che ci pensino puri i vili ragionieri deputati alla poco nobile incombenza di far quadrare i conti della serba gli scandinavi però la pensano diversamente forse gli è rimasta impresso quella storia che se da qualcuno un pesce si sfama un giorno ma se gli insegna a pescare si sfama per sempre o forse c'è qualche altra perversione culturale e non c'è dato saperlo fatto sta che gli pagano un corso negli stati uniti grazie al quale il nostro disgraziato ex pianista diventa un docente di storia della musica per quanto questa evidenza possa indignare i fautori dello stato padre padrone imprenditore innovatore e dio sa quant'altro pare che ci possa che sia possibile pescare anche con una mano sola nell'ascoltare questo aneddoto non ho potuto fare a meno di ripensare alle critiche allo scetticismo a cui vado incontro tutte le volte che mi permetto di ventilare la possibilità che i lavoratori che si trovano a 20 o 25 anni dalla pensione possano riconvertire le proprie professionalità nel momento in cui le loro attuali mansioni non sono più utili un noto politico italiano di area progressista ha bollato non troppo tempo fa come cazzata liberista idea di tutelare i lavoratori invece dei posti di lavoro potremmo chiamarla cultura del torcicollo evocando l'immagine di una rotazione innaturale del capo nello sforzo di guardare indietro è una visione del mondo fatalista tesa ad escludere o rifiutare la prospettiva di cambiamenti radicali nella società e nell'economia e ipotizzare che quanto avvenuto in passato debba necessariamente ripetersi o in ogni caso costituisca la determinante principale di quanto avverrà in futuro è la matrice ideologica di quello che sandro brusco su no es from america chiamato il modello superfisso in economia e che ancora oggi sembra il quadro teorico di riferimento per l'intera classe politica senza distinzione di colore derivano da questo approccio l'idea che i figli debbano fare il lavoro dei padri che un paese con una storia importante come la nostra abbia una serie di diritti acquisiti nei confronti del resto del mondo e in generale che il cambiamento porti più rischi che benefici e che sia una prospettiva negativa alla quale resistere per quanto possibile invocando la protezione del sovrano o di chi ne fa le veci in quest'ottica l'innovazione e la creatività sono positivi solo quando si limitano ad una dimensione incrementale consentendoci di aggiornare i nostri punti di forza tradizionale che si tratti della moda dell'industria del turismo ma diventano negativi quando includono cambiamenti più radicali come la tecnologia digitale l'organizzazione aziendale leggere e il lavoro indipendente è di tutta evidenza che in un mondo caratterizzato da un processo radicale di trasformazione sotto alcuni aspetti accelerato dagli effetti della pandemia in corso una visione di questo tipo costituisca la ricetta perfetta per il disastro proviamo a recuperare qualche esempio dalla cronaca recente intesa san paolo il primo gruppo bancario e campione nazionale distintosi per aver salvato a fronte di generose garanzie da parte del governo le popolari venete ha deciso di recente di lanciare un'offerta di acquisto su ubibanca in un mondo in cui camminano già giovani clienti che non hanno mai messo e non metteranno mai piedi in una filiale fisica dove l'intermediazione finanziaria avviene sempre più attraverso canali e processi digitali dove le prospettive di crescita e gestione dei rischi sono sempre più globali la mossa più sensata che viene in mente ai vertici dell'istituto è parsa quella di acquistare una banca tradizionale italiana con rilevanti sovrapposizioni sia territoriali che industriali dunque l'obiettivo è la creazione di una ancora più grande banca italiana con tante filiali e dipendenti come una volta dalla proposta del pd per lavorare a meno lavorare in tanti ai navigator del movimento 5 stelle preposti a distribuire lavori che non esistono a soggetti che non hanno competenze per svolgerli la classe politica italiana sembra convinta di vivere ai tempi di harry ford in un'economia dominata da imprese gigantesche che impiegano lavoratori fungibili all'interno di catene di montaggio infinite non dovrebbe sorprendere che le regole e la burocrazia pensate per questo tipo di elefanti si configurino alternativamente come oneri insostenibili o come maglie larghe facili da girare degli operatori più piccoli che si tratti di piccole imprese o lavoratori autonomi che compongono tanta parte dell'economia italiana una conseguenza non banale di questo approccio anacronistico riguarda le illusioni sulla difesa delle produzioni italiane dai campioni nazionali come all'italia e più in generale alle altre prodezze dello stato imprenditore insistere nel fare le cose alla vecchia maniera subendo al contempo la concorrenza di chi altrove ha trovato sistemi per ottenere risultati migliori a costi più bassi finisce per caricare di oneri sempre maggiori uno stato sempre più gracile e quindi il settore della finanza pubblica quello che meglio esemplifica la cultura del torcicolo presentandosi come un nobile decaduto che vagheggia dei bei tempi andati mentre è costretto a vendere le ultime proprietà nella completa rimozione dell'idea che prima o poi dovranno finire incapace di concepire un apparato statale più leggero ed efficiente o una incidenza del settore pubblico nell'economia che non sia crescente nel tempo le proposte della classe politica e dirigente oscillano dal bastone di una possibile patrimoniale alla carota di un ricorso volontario a risparmio pubblico arrovellandosi su come dividere una torta sempre più piccola rifiutando l'idea che la chiave per affrontare le sfide del mondo contemporaneo risieda nella crescita a questo proposito segnalo il tweet di branco milanovic che fa vedere come il reddito pro capite del nostro stato sia tornato esattamente nella posizione che aveva negli anni 60 con riferimento alle prospettive più immediate il nostro paese è avviato verso un calo della crescita economica nel 2020 tra i peggiori dei paesi sviluppati che in aggiunta alle misure straordinarie avanzate per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia in corso porterà ad un deterioramento ulteriore degli indicatori di finanza pubblica e in particolare una preoccupante crescita del rapporto debito pil questa prospettiva ha causato di recente il declassamento del debito sovrano da parte di una delle tre principali agenzie di rating portando il merito di credito al nostro paese pericolosamente vicino al livello non investment grade sul significato di questa operazione vi rimando al podcast precedente o al video sul mio canale youtube ma la cultura del torcicollo ci propone e impone di resistere al cambiamento e rifiutare la realtà che appaiono sconvenienti dando luogo a una costante condizione di dissonanza cognitiva anche se si riducono drasticamente gli spostamenti e crollano i consumi legati alla mobilità si chiede al ristorante e negozi di aprire in perdita alle imprese di mantenere invariata la produzione e l'occupazione anche se non è più economicamente sostenibile e si districuniscono un po di mancia a pioggia nella speranza che i sudditi stiano buoni finché non passa a nuttata slogan che ben rappresenta l'ideale italico in base al quale i problemi in qualche modo svariranno o si risolveranno da soli se riusciamo ad evitarli per un periodo sufficientemente lungo un ulteriore banco di prova è costituito dal rapporto con le istituzioni europee e dagli sviluppi epocali ai quali abbiamo assistito nelle ultime settimane dopo averci salvato una volta con le parole dell'italiano atipico mario draghi anche in assenza di una famigerata unità politica hanno dimostrato di sapere agire in modo efficace e tempestivo e grazie alla storica apertura della germania prontamente recepita nella proposta next generation eu della commissione europea di poter attivare anche importanti meccanismi di solidarietà che consentano ai paesi più forti di aiutare quelli più deboli in circostanze di emergenza qual è la reazione della classe politica italiana di fronte a questa fondamentale opportunità di riscatto da decenni di declino economico e sociale fregarsi le mani per la dimensione dei fondi potenzialmente in arrivo e vagheggiare di grandi piani infrastrutturali e spesa a pioggia che in passato si è rivelata tanto efficace nel raccogliere consenso quanto inutile allo sviluppo del paese è necessario trovare il coraggio e la forza di ruotare il capo e guardare avanti il coraggio di vedere che alcuni tratti storici della nostra società sono cambiati in modo permanente e che la sostenibilità non solo economica del nostro paese passa per un radicale e necessario percorso di trasformazione un sentiero lungo il quale gli individui dovranno cercare di aiutarsi da soli oltre a chiedere aiuto in cui lo stato e il settore pubblico continueranno a fornire fondamentali reti di protezione ma che tuttavia non potranno sostituire la necessità per gli individui di camminare con le proprie gambe in cui all'apertura dei confronti del cambiamento e dell'innovazione anche radicale e distruttiva non sarà ulteriormente rinviabile un futuro insomma in cui si possa finalmente porre fine ai pasti gratis a spese delle generazioni future e in cui tutti possano utilmente contribuire a cucinare anche se hanno una mano sola avete ascoltato la finanza in soldoni di massimo famularo trovate i miei aggiornamenti anche sul canale youtube o seguendo il mio account twitter se vi piacciono questi post potete offrirmi un caffè cliccando sulla tazzina con il cuore che trovate al link di descrizione del podcast oppure abbonandovi al mio account patreon da 2 euro al mese i fondi saranno utilizzati per pagare abbonamenti a stampa italiana e straniera necessarie per l'attività di debunking traduzione e commento o anche una newsletter